Ferretti, Papa Stefano che dice? Papa Stefano è contento perché gioco, però comunque dice che si può sempre migliorare sotto tutti i punti di vista. Un ascolto diamo a lui, un ascolto al mister e cerco di fare il meglio per me stesso e per la squadra. Lui giocava diversamente rispetto a te? Lui era un centrocampista più avanzato, anche se poi in Serie A ha fatto il mio stesso ruolo, quindi qualche consiglio quando torno a casa me lo dà sempre. Tu forse sei fisicamente più dotato, lui aveva piedi migliori, possiamo metterla così? Sicuramente lui aveva un gran piede, aveva una buona corsa, è normale che ci vogliono tante qualità per arrivare lì su. Questo poi lo decideranno gli altri, vedranno come io gioco e valuteranno se posso arrivare in categorie magari superiori. Questa è la stagione importante per te, lo è per il Chieti, ti stai consacrando in questo campionato? Sì, per me è una stagione molto importante, dopo che lo scorso anno siamo riusciti a vincere un campionato è stata una grande gioia. Quest'anno c'è stata la riconferma, ho messo a disposizione tutto quello che potevo dare nel campo, il mister mi conosce da tre anni, credo che c'è un bel gruppo, credo che abbiamo fatto un ottimo gruppo anche se le aspettative della società all'inizio erano quelle solamente di salvarsi, quindi poi alla fine credo che stiamo facendo bene. Prato, difficile, però bisogna continuare la striscia di risultati positivi? Credo che questa striscia di risultati positivi deve continuare, continua da un po', quindi noi dobbiamo andare lì e cercare di portare a casa i tre punti, cercare di vincere, di vincere per restare nella zona playoff e per comunque andarci a giocare questi playoff.